Ecco qui, che cosa facciamo, che cosa siamo? Siamo un studio di progettazione, non siamo un'impresa e noi lavoriamo per i committenti privati e per i miei settori immobiliari che vogliono realizzare case naturali in Valle di Paglia. L'obiettivo, come questa mattina, è quello di informare le persone, i committenti che ci saranno un incontro un po' tecnico e informativo informare su cosa, su come realizzare una casa durabile e di qualità e soprattutto senza sorprese per dare poi ai clienti una casa di qualità con valore certificato perché poi, dalla presentazione alla costruzione, tutte le fasi sono certificate come prevede la normativa, in modo da avere un investimento immobiliare, ok? Cioè, non faccio una casa perché diventino due anni, diventino un investimento immobiliare. Come deve essere, si tratta sempre di valori, che parliamo di 200-300 mila euro di edificio in generale. Ci siamo, qui siamo nel nostro studio, al lavoro, il team, il progetto è composto da me, che sono architetto, da Linda, come adatti, che è architetto, e da Ludovico, che è ingegnere, che viene dall'animata, che sta facendo da noi un tirocinio sui edifici in legno. Tutti i giorni ci affacciamo all'uso del legno nelle costruzioni. Questo è un po' chi siamo, appunto siamo un studio di prestazione che fa consulenza e progettiamo i principali per il benessere dell'uomo. Questo è quello che ci spinge, cioè il benessere e l'aspetto ambientale. Lo studio fornisce servizi di progettazione, direzione dei lavori e consulenza sulla progettazione anche ad altri tecnici, non solo noi come studio di progettazione.